Per noi, uno per uno, tanti nomi, ad esempio, facciamo qua un amico, il nostro bioncino, lui è il suo razzazzo e fa i coni, il suo nome è André e Ernesto del Tocucchia! Passiamo alla parte veterana, al classicismo di Beethoven, lui suona tasti bianchi e tasti neri, e gli suona piana e gli suona forte, anche lui ha un grande nome, il Rocchi del suo cognome, il lupo barmano Alberto Rocchetti! La riconferma, le sette corde, sette sono le note, ma sono importanti anche gli accenti, alla chitarra, signore e signori, vince e passano! Lui, lui di noi ne ha tantissimi, però un po' per nascondersi, perché lui, sapete, è un... e ama tutte, ha diversi nomi e comunque rimane sempre il numero uno, al basso, Claudio e qui mi voglio, perché lì farebbe all'amore con tutti, qui mi sa che tutti vorrebbero fare all'amore con lui! E' la batteria, mister Wilhelm Holt! Ma l'amore! Intanto qua si suona, anche qua tastiere, si canta, si dà il cuore al computer, ma soprattutto è sempre un uomo che trova, frega e crema! E come non... non si possono fare le cose sempre da soli, no? Ci vuole l'altra metà, il sesso forte! Guardate qua come è messa, la Ferrari del rock, signore e signori, le grandi curve e i grandi cori di Clara Arughi! Ma... fare all'amore, va bene? Ma ci vuole sempre la musica, con la M maiuscola, e quindi abbiamo un grandissimo rappresentante! Signore e signori, fa la chitarra, Stefano! Ma... ma ricordatevi, la libertà non è un sogno, bisogna essere liberi dentro per poter sentirsi liberi fuori! Non saremo mai liberi di fare, ma dobbiamo essere sempre liberi di pensare! Grazie ovviamente! Ciao! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.